Bene ragazzi siamo qua, tornati con la reaction, oggi si gioca Napoli-Inter Oggi finale di Supercoppa Italia ragazzi, tra Napoli e Inter Oggi partita importante per il Napoli, bisogna vincere questo trofeo ragazzi Che sarà l'unico forse trofeo che vinceremo questo 2024 E niente ragazzi, per questo video lasciate mi piace, iscrivetevi al canale Oggi partita difficile contro l'Inter che sta secondo in classe, si fa una partita in meno Se vince ritorna primo E niente ragazzi, prima di andare a reagire a questa partita tra Napoli e Inter Andiamo a vedere la formazione ufficiale Perché ho letto prima che Mario Lui ha preso un fastidio alla gamba E' infortunato, non giocherà sicuramente questa partita Perciò adesso andiamo a vedere le formazioni ufficiali del Napoli Prima di andare a reagire a questa partita E' importante questa partita, cioè le informazioni Allora, per il Napoli gioca Collini, Mazzocchi, Rachmani, Juan Jesus Di Lorenzo, Caius, Lobotka, Politano, Quaraschelia, Simeone e Zerbin Zerbin, doppietta scorsa ragazzi Oggi sarà una partita difficile E giocherà Politano più indietro al centrocampo Per far mettere Di Lorenzo a sinistra in posto di mano a lui Comunque speriamo di fare una grande partita Già me lo sento però Dove un po' di problemi fisici della nostra squadra Non c'era anche Ozyman E' un po' un problema questa partita per noi E niente, speriamo di fare una grande partita E se vinciamo con questa squadra che giocavamo così Ragazzi, veramente siamo forti E niente, adesso c'è un primo tempo di Napoli-Inter Ragazzi, forza Napoli Speriamo di vincere questa partita Dai, forza Napoli C'è un primo tempo di Napoli-Inter Dai Forza Napoli-Inter Ragazzi, inizia qua il primo tempo di Napoli-Inter Dai, dai Iniziate la finale È iniziata Dai ragazzi Andiamo a vincere questa supercoppa Dai, 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 dai Ma vinci, dai Un trofeo, porca Ma vinci, dai Che c'ha passato? Ma che fai, Kvara? Ma chi va a passare una bulla barelli, ah? Eh dai, ragazzi Bello Noi, mettila Vitti sta palla Tira Ma tira Noo Dai, Kvarnac Ma come si fa? Sei là, stai? Ragazzi, c'è qua il primo tempo Ragazzi, c'è qua il primo tempo 0-0 Partita bella per il Napoli Stiamo giocando bene Buona partita, ragazzi Mi aspettavo di peggio, ragazzi Un bel Napoli Stiamo facendo una grande partita Adesso c'è un assoluto tempo Continuiamo a giocare così Che veramente Il gol Questo ce l'avevo Lo stiamo meritando, eh E niente Noi c'è un assoluto tempo Comunque Bella partita, ragazzi L'Inter ha fatto Le sue occasioni Noi, Napoli Per la formazione che ha, ragazzi Io Prego più il Napoli Che l'Inter E non c'è nulla da dire Bella partita Bel possesso Abbiamo avuto qualche occasione Però Stalbiro Mamma, è meglio Cioè Hanno fatto 5 fall L'Inter C'erano la munizione raccomane Poi c'erano la munizione C'erano 7 fall Dai, ragazzi Però Stiamo giocando bene C'erano al secondo tempo Forza Napoli La possiamo portare a casa finale Non è impossibile Dai, al secondo tempo Ragazzi Insieme al secondo tempo Di Napoli Inter Dai, dai, dai Ragazzi Ma vinci Abbiamo fatto un bel primo tempo Alla fine Perciò bisogna portarla da casa Ma c'è il tiglio Dai, resta Ma, va, va Passa Tira Ma che parata Buon match Dai Dai, ragazzi Ci siamo però Dai Una buona azione Questa Bravo, bravi Dai, dai, dai Continuiamo a giocare così Dai, insegniamo Dai Bravo, Quara Va bene Un buon tiro, eh Dai, dai Ci sta la stazione Buon, buon Grande, grande Quara Non c'è il tiro Ma come? Dai, ma questo è alberaggio scandaloso Dai Ma come fai a essere rossi? Ma che? Ma sta scherzando Questa albergo stasera Comunque Ma come cavolo è possibile Ander rosso così? Dai L'ho rubato proprio, ragazzi L'ho rubato L'ho rubato Vai, l'istro Da fatto fa Oh, è fallo Oh, ma che sta fallo però? Oh, è giù È giammiato Ma che sta fallo? Non fai stai fallo in attacco Io non lo so Ma che sta avvenendo Sta avvenendo Stasera No Parolo Oh, tannanzo Ma che sta C***o Oh, tannanzo Riesci che sta partita a così Rol due minuti Ma che sono pazzi Su Dai Come fai a passaggio a così piccolino Che salario E dai però Non potete riuscire a scaccare L'urdu in giro Ma io mi ho caduto tanto buono E dai Lo fa tirare Non lo fa tirare Non lo fa cosa? Ma che c***o Ma che c***o Ma che c***o Ma f***o Dai Ma come è possibile? Abbiamo l'ultimo gol Un'ultimo minuto Ah Ma per c***o Ma per c***o La partita che è fina all'ultimo in defesa Ma teniamola Teniamola del basso Teniamola La partita Ma che c***o Mamma mia Che nervatura Ma come è possibile? Com'è possibile? la partita rubata rubata arti a rubata una partita rubata ma come se vado aiuta una partita rubata la partita rubata rubata fino all'ultimo come si fa a me resistendo l'ultimo 5 minuti a me faccio a me con i polli ma con i polli dai una partita tanta bella mi ha fatto e che mi ha sprecato i cosi non lo so ma io non lo so ma io non lo so una partita rubata sprecata e tutto resta a PS ma come cavolo è possibile una partita rubata una partita rubata proprio finita ma come si fa ma come si fa cioè veramente ragazzi ma che cavolo dei partitari ma che partita rubata io non lo so non lo so ragazzi veramente una partita rubata partita rubata partita rubata dall'inter questo devo dire niente che a dire ragazzi abbiamo giocato bene noi ma ma st albero non ha capito niente in questa partita per favore poi i momenti dieci stiamo pure a posto la formazione è bella al logo ma io sinceramente secondo me me ne davano un po anche noi il primo tempo e fare un gol mi dispiace ragazzi perché avevamo giocato bene all'inizio e sembrava che non gli voleva fare cioè stavamo proprio per razzaccare la partita vabbè ragazzi per una zepa all'ultima volevo andare ai rigori io cioè a non giocare ai rigori sicuramente io ne ho più possibilità di vincere vabbè ragazzi un trofeo che va mi dispiace troppo è così dai una partita che si poteva vincere facilmente ragazzi che l'inter ha spiegato da tante occasioni e c'è da dire niente ragazzi per questo video lasciate un piace iscrivete al canale ciao ragazzi c'è una reaction domenica con con la lazio